Il complemento di origine o provenienza, lezione base a cura del prof. Alfonso Zera. Il complemento di origine o provenienza indica l'origine o la provenienza di qualcuno o di qualcosa, sia in senso proprio che in quello figurato. Come nelle frasi, rosario originario di Angri, in questo caso abbiamo un senso proprio, rosario discende da una nobile famiglia, in questo caso abbiamo un senso figurato. Il complemento di origine o provenienza risponde alle domande Il complemento di origine o provenienza è introdotto dalle preposizioni da e di, semplici o articolate, come nelle frasi Il complemento di origine o provenienza dipende da verbi, nomi, aggettivi o participi che indicano origine o provenienza. Come ad esempio Attenzione! Quando si indica la città di origine, il participio o l'aggettivo che indica all'origine o la provenienza può anche essere sottinteso. Come nella frase Il complemento di origine o provenienza può essere espresso dalla particella avverbiale ne, come nella frase Filippo possiede un BNB e quest'anno ne ha ricavato un sostanzioso guadagno, in questo caso ne sottintende dal BNB. Complemento di origine o provenienza o complemento di moto da luogo? Se prendiamo la frase Questa spada proviene dal Giappone Dal Giappone è complemento di origine o provenienza, infatti risponde alla domanda Da dove proviene? Invece, se prendiamo la frase Mario è tornato dal Giappone Dal Giappone è complemento di moto da luogo, infatti risponde alla domanda Da dove è tornato? Da dove è tornato da luogo, infatti risponde alla domanda